e ricordando che un mercato aperto per l'europeo la posizione dell'azienda italiana da parte degli spagnoli riguarda innanzitutto il livello occupazionale ma anche la posizione degli asset strategici da forma della libertà sicuramente ora in tema della rete stessa si colloca dei limiti delle possibilità dello Stato che può come regolatore imporre la separazione della rete ma non può imporre la venina le sue operazioni hanno entrato questa mattina al senato il presidente del gruppo Franco Bernabè che ha sorpreso di aver appreso la politica degli accordi con le azioniste dai comunitati stampa Bernabè ha guardato a quelli che oggi gridano per il passaggio di un'azienda strategica di grandi stranieri